Avviso al personale, in arrivo pazienti con emorroidi fredde. Avviso al personale, in arrivo pazienti con corpo sciolto. Avviso al personale, in arrivo pazienti con personalità televisiva. Avviso al personale, in arrivo pazienti con rinite rara. Avviso al personale, in arrivo pazienti con ossa rotte. Avviso al personale, pazienti con invisibilità in arrivo. Avviso al personale, pazienti con testa gonfia in arrivo. Avviso al personale, casi urgenti di cespuglite in arrivo. Avviso al personale, in arrivo pazienti con sindrome del Re. Avviso al personale, in arrivo pazienti con radiazione grave. Avviso al personale, pazienti con iperlingua in arrivo. Avviso al personale, pazienti con calvizie in arrivo. Avviso al personale, in arrivo pazienti con grattarola, avviso al personale, in arrivo pazienti con gelatinite, avviso al personale, in arrivo pazienti con malattia del sonno, avviso al personale, in arrivo pazienti con petulenza, avviso al personale, in arrivo pazienti con mani sudate, avviso al personale, in arrivo pazienti con gonfiore inatteso, avviso al personale, pazienti con colonite in arrivo, Avviso al personale, pazienti in arrivo con DNA alieno, avviso al personale, in arrivo pazienti con gravidanza, avviso al personale, in arrivo pazienti con trasparenza, avviso al personale, pazienti con costolette in arrivo, avviso al personale, in arrivo pazienti con fagioli renali, avviso al personale, pazienti con cuore infranto in arrivo, avviso al personale, in arrivo pazienti con noci perforate, Avviso al personale, in arrivo pazienti con riso infettivo. Avviso al personale, in arrivo pazienti con calcoli gassosi. Richiesta infermiera in reparto. Due chirurghi richiesti in sala operatoria. Infermiera richiesta in farmacia. Dottore richiesto in radiologia. Altro chirurgo richiesto in sala operatoria. Dottore richiesto in aggiusta DNA. Dottore richiesto in tricorestauro. Dottore richiesto in tirocinio. Dottore richiesto in elettrolisi. Dottore richiesto in vasca gel. Dottore richiesto in diagnosi generale. Ricercatore richiesto in reparto ricerca. Dottore richiesto in decontaminazione. Operaio per riparare affetta lingue. Operaio per riparazione raggi X. Operaio per riparare aggiusta DNA. Richiesto controllo di tricorestauratore. Operaio per riparazione macchina elettrolisi. Richiesta manutenzione in vasca gel. Chiamato operaio per macchina cardio. Operaio, prego riparare macchinario diagnosi. Manutenzione recarsi in decontaminazione. Operaio per manutenzione pompa. Manutenzione per macchina fratture. Operaio per macchina del sangue. Operaio per riparare ultrascanner. Allarme epidemia. Attendere. Avviso al personale. Allarme epidemia. Attenzione, allarme epidemia. Attenzione. Fine epidemia. Cessato allarme. Epidemia sotto controllo. Epidemia circoscritta. Fine allarme epidemia. Allarme, terremoto in atto. Allarme, terremoto imminente. Attenzione, allarme terremoto. Attenzione, terremoto in arrivo. Attenzione, c'è un VIP nell'edificio. Un VIP è entrato nell'edificio. Un VIP è attualmente in visita. Un VIP è in giro per l'edificio. Abbiamo con noi un VIP. C'è un tipo del ministero nell'ospedale. Dottore se ne va. Dottore licenziato. Dottore sta uscendo. Infermiera se ne va. Infermiera se ne sta andando. Operaio licenziato sta uscendo. Licenziamento in vista per receptionist. Receptionist se ne va. Ci hanno soffiato un impiegato. Ci hanno soffiato un dottore. Allarme rosso. Attacco alieno. Atterraggio alieni. Aiuto! Gli alieni esistono e sono nell'edificio. Si pregano gli alieni di non creare troppo scompiglio. Alieni, prego firmare il registro. Ci scusiamo per tutti questi rifiuti. Ci scusiamo per questo gelo polare. Ci scusiamo per questo caldo torrido. Ci scusiamo coi pazienti. I radiatori sono impazziti. Avviso vomito. Attenti ai piedi. Manutenzione. Vomito in corridoio. L'amministratore dell'ospedale ruba. Attenti! Un ladro dirige l'ospedale. Allarme truffa! Allarme truffa! Al telefono, prego. Dottor Gekil in psichiatria, prego. Si prega di non fumare nell'ospedale. Preghiamo ai pazienti di non morire nei corridoi. Tosse e starnuti. Che Dio ci aiuti! Ai pazienti. Si richiede libretto assegni. Ai pazienti. Si richiedono carte di credito. Silenzio, prego. La gente sta male. Si pregano i pazienti di non vomitare troppo. Avviso. Questo è un avviso. I pazienti sono qui a loro rischio. Si pregano i matti di stare più tranquilli che possono. Si pregano i pazienti di portare pazienza. Si pregano i pazienti di aspettare in silenzio. Si prega di non sporcare l'ospedale. Gettare rifiuti è contro le regole. I pazienti sono pregati di tenere per sé i loro germi. I pazienti tengano pronti i libretti degli assegni. I pazienti si muniscano di carte di credito. I pazienti terminali in cima alla coda. Code ordinate, per favore. Richiedete altri prodotti Bullfrog. Vietato girovagare. Vietato sporcare. Vietato vomitare. Si ricorda al personale di riposarsi di frequente. Oggi offerta speciale. Capelli nuovi a metà prezzo. Il dottor Frankenstein si recchia all'uscita posteriore. Si prega di non dare cibo ai topi. Grazie. Si pregano i pazienti di lamentarsi in silenzio. Grazie. C'è una bomba di rifiuti nell'ospedale. Allarme bomba di rifiuti. Attenzione. Bomba di rifiuti. Sono stufa di annunci. Voglio andare a casa. E siete gentilmente pregati di non vomitare nei corridoi. Il dottor Lecter si recchi dall'addetto alla sicurezza, prego. La scheda audio è ora funzionante.